Comedy Central è il canale della pancia, per ridere con la pancia la facca a c***o, tagliela, tagliela. Comedy Central è la verità, viva Comedy Central! E' allegria! Non l'ho detta come mai! Comedy Central presents, dal 19 febbraio ogni venerdì alle 21 in prima visione assoluta su Comedy Central. Niente, non mi viene, però è...